E' il mare anche per me il nome del progetto che darà la possibilità alle persone diversamente abili di poter accedere a strutture balneari, lidi organizzati per accoglierle. Il servizio prevede la formula dell'assistenza uno ad uno, ovvero un professionista specializzato si occuperà dell'assistenza di ogni singolo fruitore ed è previsto il trasporto dalla propria abitazione alla Lido e naturalmente il viaggio di ritorno. Il progetto inizierà il 5 luglio e proseguirà fino al 31 agosto. Il primo Lido attrezzato è la spiaggia di Torre Ovo. Ad occuparsene sarà l'associazione Amici del Leone nata a Grottaglie nell'ottobre scorso. Con l'avvento dell'estate il primo pensiero sono le vacanze e soprattutto il mare. La sensazione di libertà che si prova vedendo la distesa di acqua davanti ai propri occhi e il suo orizzonte infinito che ci fa sentire grandi e piccoli allo stesso tempo. E sempre guardando il mare fa sapere il presidente dell'associazione, Vito Lorusso, abbiamo pensato che tutti dovrebbero assistere a questa meraviglia. Soprattutto chi come noi della Puglia lo ha a due passi. Ma quei due passi non sono sempre così facili da fare e così hanno deciso di renderli fattibili per tutti coloro che si trovano a lottare ogni giorno con le loro disabilità per una qualità della vita migliore. L'associazione Gli Amici delle Leone presieduta da Vito Lorusso in meno di un anno è una macchina organizzativa e instancabile, sempre pronta a correre in aiuto di chi ha bisogno dei meno fortunati.